benvenute allora oggi spogliamo insieme l'album numero 13 del libro che valido fino al 20 ottobre del 2015 come sempre qui sotto tutti i link per contattarvi per informazioni per le ordine trovate sempre anche il link per scaricare il modo PDF catalogo così potete tranquillamente scaricarlo sul vostro computer e sfogliarlo con calma intanto guardiamo l'album poi però vi ricordo che è attivo già l'album di Natale quindi qui sotto nell'info box troverete anche e anche nella scheda qui troverete anche il link per sfogliare insieme anche il catalogo di Natale e qui intanto sfogliamo l'album numero 13 ciao allora iniziamo subito con il catalogo vedete prima cosa che c'è un concorso che dico wow e si va sul sito www.avisoaperto.it comunque sia vi lascio il link qui sotto nelle box informazioni e ogni giorno si può vincere un kit con dei prodotti viso che ne sono un paio 100 quindi si trova buona possibilità di vincere qualcosa premio finale un viaggio in Anagascar quindi dico davvero wow e adesso partiamo con le offerte la prima cosa ci sono tutti i trattamenti viso acquistando un trattamento viso si ha il contorno occhi della linea a partire da 3 euro è ok prima fare il mostro subito questa novità che è la nuova linea ed è si chiama sensitive vegetale per le pelli più sensibili perché non ha profumo non ha parabeni e non ha coloranti quindi la linea viso per le pelli più sensibili eccola qui intanto mostra che tutti i trattamenti viso del libro si sono modernizzati ancora di più perché tutti i flaconi sono concepiti i vasetti pure ed i prodotti sono a chiusura ermetica quindi davvero non non entra nessun tipo di impurità nel viso mi mostro subito una nuova linea sensitive che è composto dal concentrato di agato dell'enerabilità eccole qui che idrata il viso ed è effetto per le pelli più sensibili tipo un'acqua termale e poi abbiamo la linea che comprende l'acqua miccellulare limitiva e l'acqua detergente limitivo eccole qui andiamo oltre ecco e abbiamo anche la crema idratante limitiva giorno e la crema idratante anti rossori questi prodotti e scegliendo uno dei due prodotti quelli questi due si può avere il trattamento negativo mirato occhi questo a solo 3 euro mentre usando questo codice a prezzo pieno sarebbe 795 qui abbiamo anche la linea idra vegetale stessa cosa perché si può avere sempre il gel fresco anti borse acquistando un prodotto da linea idra vegetale il gel fresco occhi a 3 euro invece di 795 la linea sebo vegetale stessa cosa acquistando un prodotto si può avere il gel fresco anti borse sempre a 3 euro andiamo avanti la linea serum vegetale questa acquistando un prodotto da linea serum vegetale si può avere a solo 5 euro il rollo occhi concentrato illuminante a prezzo pieno di 1995 quindi davvero è una buona offerta andiamo avanti perché c'è anche la linea serum vegetale eccola anche questa che quella idra ferme te si può avere acquistando sempre un prodotto e a 5 euro il finger mirato occhi e labbra prezzo intero 1495 quindi sono davvero grandi promozioni e poi si ha un kit completo in essere un vegetale quella lifting acquistando un prodotto 5 euro il contorno occhi effetto lifting che vi super consiglio lo sapete benissimo andiamo avanti perché anche la linea anti global si ha a 7 euro la crema fondamentale occhi acquistando un prodotto ovviamente ed ecco qua oppure la crema fondamentale occhi scusate perché ecco qui ci sono anche altri prodotti quindi acquistando anche uno di questi prodotti cioè la crema fondamentale giorno con protezione 20 oppure il siero si ha sempre a 7 euro la crema fondamentale occhi l'innex di xil 79 acquistando uno dei prodotti eccoli qui si ha il roll on occhi e il titolo di giovinetta a 7 euro e quella qua la linea riche creme si ha l'antirughi benefica occhi a 7 euro qui acquistando sempre il prodotto ovviamente altra promozione perché abbiamo la linea lifting bio quella completamente biologica crema giorno e crema notte a solo 24,95 quindi questa è una grande offerta ora vi mostro un'altra promozione perché acquistando uno dei prodotti di make up che ora vi mostro acquistando uno si ha in omaggio uno di questi smalti qui e qui a scelta cioè è scelta dell'azienda ecco quindi acquistando un prodotto e vi era mandato anche uno smalto quindi tra questi paio dei rossetti le tinte labbra, il gloss, il fondotinta, altri fondotinta, il correttore, la cipra in polvere la terra, il blush, il mascara, il mascara e il nuovo mascara ombretto e lo smoky questi sono tutti i prodotti che acquistandone uno si riceve in omaggio uno smalto passiamo ora anche a promozione perché tutti i gel doccia ed la crema doccia del Jardin Dumont sono a 1,95 euro e quelli qui quindi tra tutti questi c'è tutti poi della linea questi, questi e senza dimenticare l'ultima pagina il gel doccia e il fior di loto questi sono tutti 1,95 l'uno quindi da avere il momento di fare una super scorta vi mostro ora il nuovo profumo che è uscito con questo catalogo il Selixir Bois Sensuel che ha una composizione ostattiva abbastanza dolce cioè molto femminile con un assoluto di vaniglia, un assoluto di iris e un'essenza di facciuoli che comprende il profumo, eccola qua, le toalette da 50 ml e ovviamente ha linee compresa anche dal latte di profumo ed al gel doccia quindi questo era tutto il catalogo numero 13 eccoci, avete visto che ci sono davvero un sacco di promozioni con tutti questi trattamenti per il viso quindi davvero wow e sapete sempre che tutte le informazioni sono qui e non mi resta che augurare di buoni acquisti e di profumati con il Magia Cattura del Mondo di Vroche e non mi resta che non mi resta che non mi resta che ci sono